I comuni della Sicilia non hanno avuto altro che il federalismo fiscale senza interventi preequativi e questo per colpa della speciale autonomia siciliana. In questo momento su 390 comuni in Sicilia, 250 non possono fare il bilancio e 100 fanno un bilancio, tra virgolette, finto perché sono già in dissesto o in predissesto in piano di riequilibrio. Tutto questo è un problema che incide sulla qualità dei servizi perché è evidente che la mancanza di risorse impedisce di poter attuare quello che sarebbe giusto e opportuno attuare con una serie di specificità che riguardano i singoli comuni. Penso ai comuni siciliani dove abbiamo avuto una gestione dell'agenzia di riscossione che si chiama riscossione Sicilia assolutamente fallimentare, tanto fallimentare che ho fatto un esposto alla Corte dei Conti e ho iniziato un giudizio per danni. Pensate, questa agenzia è talmente un colabrodo che su 62 miliardi di fiscalità da incassare, ovviamente non soltanto comunale ma anche comunale, intermedio e regione, ne ha incassati solamente 12, l'8%. La differenza tra quello che è incassato e quello che non è incassato, le amministrazioni comunali devono accantonare. Faccio un esempio più semplice. Io chiamo tutte le mattine la direttrice dei servizi tributari, facendo i complimenti per la sua lotta all'evasione, la chiamo il pomeriggio e dico lei ci sta rovinando. Perché quando mando un accertamento e l'agenzia di riscossione Sicilia, che è un ente regionale, non comunale, in rispetto regionale, non incassa, noi dobbiamo per la legge vigente accantonare una somma pari a quella che è stata accertata. È evidentemente una situazione pazzesca, tanto pazzesca che si è pensato opportunamente di togliere a questa specie di barca che fa acqua da tutte le parti, la competenza da oggi è competente all'agenzia delle entrate. Speriamo che l'agenzia delle entrate possa essere, come credo che sarà sicuramente più efficiente, di quel colabrodo che è stato l'agenzia di riscossione Sicilia. Che significa questo? Che tutto questo si scarica sui cittadini, si scarica sull'inadeguatezza dei servizi. Poi c'è un secondo aspetto che riguarda il ruolo dei sindaci. I sindaci sono una condizione particolare. Normalmente in un sistema democratico c'è un rapporto tra consenso, competenza e responsabilità. Al consenso corrispondono le competenze, le competenze e la responsabilità. I sindaci italiani hanno molto consenso, non esistono politici che hanno più consensi di chi è sindaco di una città o di un comune. Bene, hanno molto consenso, hanno molte responsabilità ma non hanno competenze. Con la conseguenza che noi assistiamo a un numero incredibile di responsabilità penali oggettive. Si fa male un bambino per chi è una porta della scuola. E' un punto di rimente. Adesso ci torno, mi perdoni perché ho una pubblicità che incombe e che è molto importante. Come dire, lo stato di salute della nostra rete. Ma questo è un punto di cui dobbiamo assolutamente parlare. Perché, insomma, per farla molto semplice, i sindaci hanno appunto grandissime responsabilità. Sono la prima frontiera rispetto al territorio ai cittadini. e ci hanno il rischio appunto di un avviso di garanzia tutti i giorni. E poi c'è un altro aspetto che io non metterei in secondo piano, che hanno degli emolumenti, poi ognuno la può pensare come vuole, che sono assolutamente, secondo me, insufficienti rispetto alla responsabilità di sindaco. Adesso ne parliamo. Andiamo in pubblicità.